Matilda De Angelis ha ammesso, soffro di ansia da tre anni, bisogna imparare a chiedere aiuto. Tramite un post su Instagram Matilda De Angelis ha confessato a cuore aperto ciò che sta provando. L'attrice ha ammesso, ho iniziato a soffrire di ansia ormai quasi tre anni fa. Matilda ha spiegato di aver capito che non può controllare tutto nella vita, lo ha fatto in occasione dell'Acne Awareness Month, dedicato alla sensibilizzazione di tali argomento. Matilda De Angelis ha fatto forti dichiarazioni relativamente al suo rapporto con l'ansia, affermando che è difficile da spiegare la sensazione di stordimento che essa provo. Per settimane avrebbe sentito un peso sul petto che le impediva di respirare. La giovane star del cinema ha tuttavia aggiunto che chi soffre di tale problema deve imparare a chiedere aiuto. L'acne sarebbe un sintomo del suo malessere. Secondo Matilda De Angelis un sintomo esteriore del suo malessere è l'acne che l'ha colpita. L'attrice ha spiegato che è fondamentale imparare ad essere vulnerabili, a cercare aiuto, ad aprirsi rispetto alle proprie fragilità, a rispettare i tempi e gli spazi che ci sono con suoni. Matilda De Angelis non posso controllare tutto. Matilda De Angelis ha poi dichiarato Sto imparando che non posso controllare tutto nella vita e che per fissarmi costantemente uno standard di perfezione irrealizzabile in ogni ambito, lavorativo, sentimentale, e ciò mi ha intossicato la mente. Sto imparando che non posso controllare il suo malessere il suo malessere il suo malessere il suo malessere il suo malessere. Sto imparando che non posso controllare